Avevo già affermato nei mesi scorsi con molta chiarezza e serenità che non mi sarei candidata al congresso confederale della CISL e cui ITER inizierà nei prossimi giorni, in modo da consentire ricambio del gruppo dirigente della nostra organizzazione ed un nuovo percorso che deve nascere dalla massima unità e conferma dei valori del riformismo, rinnovamento e trasparenza che hanno caratterizzato questi ultimi sette anni. I tempi sono maturi, ha detto così Furlan nel discorso le sue conclusioni al comitato esecutivo della CISL che si è svolto ieri in teleconferenza. Dunque, ha detto il segretario generale, nei prossimi giorni avvierò come previsto le consultazioni con tutti i segretari delle categorie, delle regioni e degli enti della CISL dove proporrò, come tutti sanno da tempo, il nome di Luigi Sbarra, attuale segretario generale aggiunto come mio successore alla guida della CISL. La nostra intenzione, dice la Furlan, è quella di organizzare già nel mese di marzo il prossimo consiglio generale della CISL per elezione del nuovo segretario e della segreteria confederale, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-covid, ha concluso. Dunque, un risultato importante, Luigi Sbarra sarà il nuovo segretario generale del sindacato. Un calabrese, originario di Pazzano, vive a Roccella Ionica, Luigi Sbarra è da tempo indicato dalla Furlan come suo successore. Sbarra, da sempre vicino alla federazione calabrese, è stato sempre attento alle problematiche che riguardano il settore della regione. Un motivo per essere orgogliosi ed è un motivo anche di vanto per l'intero mondo sindacale calabrese e per la sua classe dirigente e soprattutto dà fiducia e slancio nel lavoro che si svolge quotidianamente a tutela dei lavoratori. Sbarra, certamente, con coraggio e determinazione, saprà svolgere al meglio il compito che gli sarà affidato. Certamente lavorerà per riportare al centro dell'agenda politica nazionale il Sud in un momento in cui il Meridione ha veramente bisogno di rappresentanti. Tanti sono stati gli attestati di stima e di vicinanza. Gli auguri giungono anche dalla redazione di Telemia. Assicurare protezioni sociali, sostegno al reddito, continuità lavorativa, era e rimane per noi un obiettivo centrale ed importante. Adesso dobbiamo lavorare sodo, forze sociali, governo nazionale, regioni, per rafforzare il sistema degli ammortizzatori sociali, per migliorare quanto più possibile tutela e protezioni sociali alle persone che lavorano e poi impegnarci in profondità per quella che consideriamo una vera grande priorità del mercato del lavoro italiano, e cioè un piano straordinario che rilanci, dia efficacia e efficienza alle politiche attive del lavoro. Grazie. Grazie.